e amici sportivi buonasera e ben ritrovati tredicesimo appuntamento stagionale con tutti nel pallone come ogni venerdì noi ci siamo siamo qui pronti per presentare quello che succederà nel prossimo fine settimana gli impegni delle formazioni calabresi parleremo molto di serie B e di serie D questa sera lo faremo con gli ospiti che vi presento subito assieme a me in studio c'è il direttore sportivo della San Biase rivelazione del campionato di serie D Antonio Mazzei buonasera direttore in collegamento con noi per parlare soprattutto di serie B ma di tutto quello di cui vorrà parlarci c'è il collega il giornalista di Radio Rai Francesco Repice buonasera Francesco buonasera a tutti e grazie dell'invito grazie a te per per averlo accettato perché è un piacere sentire una voce così autorevole in merito soprattutto a quelle che sono sì sì così autorevole sì per in merito soprattutto a quelle che sono le due maggiori realtà calcistiche calabresi Catanzaro e Cosenza partiamo dalla serie B Francesco e parto proprio da te con un commento su quelle che sono state le prime 14 giornate di serie B proprio in casa giallo rossa in casa rosso blu guarda io mi aspettavo quello che sta accadendo sinceramente nel senso che nella calcio le parole magiche sono due con qualche eccezione però in genere le parole vincenti sono due continuità ed equilibrio quando si lavora sempre con gli stessi metodi con le stesse persone con gli stessi calciatori allora si possono raggiungere degli obiettivi importanti quando si cambia quando si fanno rivoluzioni quando in qualche maniera si modifica il modo di lavorare allora i risultati possono non essere più quelli ma si inizia un nuovo percorso e quindi mi aspettavo l'andamento non certo esaltante né di Cosenza né di Catanzaro in questa prima in questa prima frazione del campionato lunghissimo di serie B ma mi aspetto qualcosa di meglio nella seconda parte poi ci sono dei detti meravigliosi insomma nella nostra terra uno di questi è accontentati un brodo che la carne costa cara in questo momento bisogna accontentarsi del brodo perché la carne costa molto cara e bisogna cercare di acquisire quelle ricchezze quelle conoscenze quelle certezze che ti potranno magari in un prossimo futuro a breve scadenza permetterti di comprarla e di gustarla io la vedo così poi speriamo che i fatti mi diano ragione fermo restando che l'obiettivo per entrambe diciamo che sia mantenere la categoria magari farlo senza particolari affanni come successo nelle precedenti stagioni per il Cosenza è chiaro che soprattutto la formazione rosso blu è partita meglio rispetto alle alle scorse stagioni è chiaro che la penalizzazione di quattro punti in classifica ha sicuramente compromesso no in parte quello che è stato l'avvio di stagione della squadra di Albini solo che ciò che non uccide portifica come sai meglio di me e quindi se è la penalizzazione non ha ucciso il Cosenza senza dubbio lo ha lo ha fortificato e credo che quello sfogliatoio abbia tratto paradossalmente dei vantaggi da quell'evento molto molto avverso come la penalizzazione appunto e vedo io perché poi le partite delle calabresi me le vedo me le registro in giro per l'italia alcune volte si sentono nelle camere degli alberghi dei suoni strani ci si è bloccato repice cerchiamo di ristabilire subito il collegamento perché so che ha tanto da dirci quindi cerchiamo di ristabilirlo subito chiede alla regia intanto io proseguo con il direttore mazzei al quale ce l'abbiamo già sì io sono qua eccoci eccoci scusa però dicevo che io seguo le partite delle squadre calabresi seguo le partite del calazzare del Cosenza in questo momento in giro per l'italia me le registro me le guardo in televisione in albergo eccetera spesso si sentono delle urla disperate magari qualcuno viene a bussarmi ma di che succede e quelli sono i miei di 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 gioia o di disappunto rispetto a quello che fanno il calazzare del Cosenza per cui eh in questo momento è così e però ripeto ciò che non uccide fortifica e credo che anche nello sfogliateo del calazzare stia accadendo qualcosa di simile perché il non trovarsi là al vetta della classifica come è accaduto lo scorso anno ti riporta una realtà che in qualche modo però deve essere vissuta non solo ma anche combattuta eh con la quale devi fare i conti e quelle sono le cose che fortificano quelle sono le cose che ti portano ai risultati dei traguardi lì poi c'è un direttore sportivo e quindi queste cose le sa meglio di me e ora glielo chiederemo perché ora lo facciamo intervenire direttore eh quanto questi aspetti possono fortificare il gruppo insomma cementificarlo in un certo senso eh mi sono praticamente allineato alle varie del dottor Revice perché effettivamente il Cosenza in particolare eh viene da un stato un pochino tumultuosa eh da un avvenimento come quello di polinizazione che può portare a scombussolare quelli che sono i piani anche dal punto di vista tecnico della ehm della proprietà e di conseguenza dello staff però una squadra che è viva una squadra che ha avuto un filotto di buoni risultati eh credo che le prestazioni in campo finora eh tranne un paio di partite altre volte non sia stato messo sotto da nessuno ehm ha avuto la fortuna di la bravura di trovare qualche calciatore che sia si sta trovando in annata più che positiva eh credo che Cosenza sia secondo me una squadra che da qui a fine campionato un campionato lunghissimo perché parliamo di una stagione c'è davvero che estenuante per quella che eh del campione di serie B potrà arrivare a una salvezza davvero tranquillo il Catanzaro purtroppo forse paga questo scotto di un campionato eh oltre quelle che erano le proprie possibilità eh probabilmente lo scorso anno è ripartita ha cambiato tanto eh è uscito hanno diciamo eh utilizzato una tattica di uscire fuori dalla loro dalla zona di comfort perché rimanere su quello che era il progetto tecnico andando a rinnovare in primis le figure tecniche dello staff eh era la soluzione più facile però eh stanno trovando una quadra sono lì nella zona medio bassa eh credo che con due o tre risultati consecutivi potrebbero mettersi in una situazione di tranquillità di tranquillità. Ecco è un po' questo Francesco e ti voglio sentire a questo proposito il problema del Catanzaro è una classifica cortissima quella di serie B con tante tante squadre racchiuse davvero in un fazzoletto di punti un Catanzaro però affetto da pareggite e ti chiedo tutti questi pareggi dieci in quattordici giornate con due vittorie e due sconfitte per il resto acquisiscono valore solo se eh si ottengono insomma se se tiene qualche vittoria in più si riesce a dar valore e significato a questi pareggi altrimenti secondo te potranno tornare utili perché insomma con questa classifica così corta si rischia di scivolare indietro facilmente. Allora guarda ti dico io sono convinto non a caso ho citato quel proverbo il calabrese poc'anzi che muovere la classifica in tempi di magra in tempi di difficoltà sia comunque un fatto positivo. Adesso noi questa come giustamente tu ricordi dobbiamo proiettare questa pareggite nell'immediato futuro e capire quanto ti consentirà se gli altri scivoleranno di mantenere quella posizione nella peggiore delle ipotesi nella migliore delle ipotesi migliorarla appunto o una una disgraziata ipotesi scivolare in quei bassi fondi eh dai quali poi è sempre complicato uscire. Io credo che in questo momento pareggiare le partite e non sembri una banalità piuttosto che perderle tant'è che molte partite sono arrivate in rimonta attenzione eh molti pareggi sono arrivati in rimonta sia molto molto importante. Significa che la squadra è viva. Significa che la squadra non ci sta a mollare l'intera posta sul campo di gioco e significa muovere la classifica e questo è in una situazione come quella che si sta delineando un fatto positivo. Quindi qui il bicchiere veramente deve essere visto mezzo pieno. E' lo stesso discorso che vale per il cosenza eh? Quando tu le partite le racchiappi come quella col Modena ma anche quella col Mantua del Catanzaro vuol dire che vuol dire che ci sei o comunque le tieni lì non le perdi vuol dire che ci sei perché l'inerzia di certe partite nelle stagioni e lì ripeto c'è sempre un direttore sportivo che può confermarmelo nelle stagioni sbagliate l'inerzia di queste partite il barometro tende sempre non al variabile tende sempre al tutto tempo cioè piove poi sempre sul bagnato perché tu la partita che è poi invece la perdi quando invece riesci a recuperarla e muovi la classifica devi vedere questa cosa veramente come un fatto molto molto positivo io la io la penso così eh. Direttore quanto è vero quello che sta dicendo Francesco Repice il carattere che stanno mostrando entrambe le squadre non voler perdere che comunque è determinante per riuscire poi ad arrivare alla vittoria. In primis una chiave di lettura mi ricollego è la gestione dei momenti chiave la partita che non puoi vincere non la devi perdere associata al carattere la determinazione di rimettere le partite in piedi dopo magari anche la doppio svantaggio come successe entrambe le squadre e riportare comunque a casa un punto a parte il morale denota che questa che queste sono squadre che hanno anima che queste sono squadre che hanno sangue e sono squadre che lottano per l'obiettivo ed effettivamente da questo bisogna ripartire perché le stagioni che partono male sono stagioni dove magari la partita è in bilico e con un tiro in porta la perdi. In questo modo bisogna cercare di prendere il massimo e di trarre il massimo di trarre conclusioni positive da queste cose. Per entrambe due trasferte delicate nella prossima giornata il Catanzaro sarà di scena domani in casa della Sampdoria il Cosenza sfiderà il Pisa. Francesco chi rischia di più in questo turno che cosa hanno da perdere entrambe? Beh allora da perdere secondo me non moltissimo perché anche in caso di zero punti per entrambe la classifica non credo che si muoverà molto in questa giornata di campionato perché ho visto le partite ci sono degli incroci che comunque toglieranno punti a tutti e la Sampdoria è una squadra fatta in una certa maniera il Pisa non ce lo aspettavamo a quei livelli. Per cui io credo che comunque il Cosenza deve andare a fare una partita accorta. Fossi il Catanzaro invece cercherà di sfruttare il momento non felicissimo della Sampdoria perché sono di quelle squadre appunto fatte per determinati obiettivi e fino a questo momento a quell'obiettivo non ci vanno nemmeno vicini. Quindi magari nello sfogliatorio c'è un po' di turbolenza, c'è un po' di difficoltà, ci sono un po' di malumori eccetera eccetera. Sfruttare quel momento lì ha di essere sfacciati, poi magari può andare male, ma va bene. Cosenza deve stare bello tranquillo perché lì adesso a Pisa si vive l'entusiasmo. Quindi rimanere lì molto concreto, molto cattivo, molto arcigno, si lotta su ogni palla, magari anche con un difensore staccato dietro. Io lo so che dico delle cose che... Mamma mia! Però siccome il pallone lo vivo in una certa maniera e come dice il direttore ci sono i momenti chiave delle stagioni, quella è una partita in cui tu devi andarti a mettere in una certa maniera, perché giochi contro una squadra a casa sua, spinta al suo pubblico e spinta soprattutto dall'entusiasmo che sta maturando, è come il Catanzaro dell'anno scorso. Esatto, sì. Quindi ti devi mettere lì e devi stare tranquillo, che tutto quello che è di più è guadagnato. Forse il Catanzaro invece sarei spregiudicato, sarei cattivo, proverai proprio a, come dire, a mettere il coltello nella piaga, no? A farla bruciare di più ancora quella piaga, perché c'è una squadra obiettivamente con delle difficoltà e bisogna approfittare di quelle difficoltà, c'è poco da dire. Qualche difficoltà per quel che riguarda le assenze avranno anche Catanzaro e Cosenza, a Cosenza mancherà Florenzi che non è un giocatore da poco, il Catanzaro anche alle prese con assenze pesanti, quella di Situm soprattutto si sta facendo sentire tantissimo. Chi l'avrebbe detto che il Croato potesse diventare davvero così determinante anche per lo scacchiere di Caserta, ma anche quella di Lamantia lì davanti, insomma, non è facile da rimpiazzare. Quali assenze sono più pesanti in questo quadro per gli equilibri delle due squadre? Guarda, io credo che siano pesanti tutte, però mi hai fatto nomi di calciatori che hanno una cifra tecnica superiore alla media. Sono tre calciatori che tecnicamente sono sopra gli altri, per come la vedo io. Per cui, sai, bisogna sempre valutare il calciatore per quello che ti può dare tecnicamente, quello che ti può dare a livello di carisma. Il Croato a Catanzaro a livello di carisma, di personalità, sta dando non tantissimo. A Cosenza Florenzi veramente sta diventando un punto di riferimento dello spogliatoio. Non so chi possa pagare di più lo scotto di queste assenze. Certo è che sono assenze pesanti, poi però, come dice sempre il mio amico Antonio Conte, poi però c'è il campo. Poi però c'è il campo. E c'è il campo che dovrà e sicuramente dirà la sua e dirà molto anche su quello che è il percorso di due allenatori. Su quest'ultimo aspetto ti voglio sentire prima di salutarti perché sono due percorsi diversi. Albini che è stato capace sin da subito di conquistare la piazza. Caserta che invece fa fatica ad entrare nel cuore dei catanzaresi. Perché probabilmente a Catanzaro avevano secondo me altre aspettative, ma sono aspettative sbagliate. È un discorso, guarda, molto, non dico simile, insomma, ma è un paragone che secondo me si può fare con la Juventus. Dalla Juventus si aspettava quest'anno che subito c'entrasse l'obiettivo scoletto dopo aver cambiato tutto. E no, no, non può funzionare così. Del Catanzaro si aspettava dopo aver cambiato che il Catanzaro si riproponesse ai livelli della passata stagione. Non sempre funziona così. Continuità ed equilibrio. Continuità ed equilibrio. C'è, guardate, siccome l'ho nominato prima, una sola eccezione, si chiama Antonio Conte. Poi per il resto continuità ed equilibrio. Per quello che riguarda il Cosenza, si fa i conti con delle annate, con delle stagioni che sono state salvate per il rotto della cuffia e in situazioni molto particolari. Adesso addirittura, capito, sembra che, insomma, si sia là e sia bellissimo star là. La classifica è sempre, non dico pericolante, ma molto attenzionata, però insomma sono questioni diverse dalle passate stagioni. Anche perché si è lavorato in maniera diversa sul mercato, anche sulla proprietà dei cartellini e questo vuol dire anche qualcosa. Come un direttore sportivo, chiedo sempre così, sa bene. Ciò andremo ora a parlare con il direttore sportivo. Ti saluto con un'ultima domanda, Francesco. Per la promozione Corsa 3 fra Sassuolo, Spezia e Pisa? Sassuolo sicuramente. Spezia e Pisa vediamo, perché ancora è un pochino presto. Il mercato potrebbe anche cambiare nuovamente gli equilibri? Io penso di sì, perché in Serie B spesso li cambia, però è un campionato troppo lungo ancora. Guardate che almeno io parlo, non per l'esperienza mia, per l'esperienza di tutti, rispetto a quello che vediamo tutti ogni anno. C'è una squadra che obiettivamente è più forte alle altre e costruita per vincere subito che il Sassuolo. Però poi attenzione, immagino, ho parlato di non entro in difficoltà della Sampdoria, ma insomma la Sampdoria è una squadra. Ci si è ribloccato, rifrizzato, repice, proprio sulla domanda finale, speriamo di recuperarlo così insomma che possa dire la sua. Eccolo, eccolo, eccolo. Dicevo, dicevo che anche la Sampdoria che adesso sta andando in questa maniera, però è una squadra costruita in una certa maniera, un centravanti io conosco abbastanza bene e so quello che può dare. Per cui aspettiamo perché è presto. Io dico Sassuolo sicuramente, le altre vediamo, vediamo. Cosa commenterai in questo fine settimana? Fiorentina-Inter, Fiorentina-Inter, domenica alle 18, che è un ottimo orario, specie per la cena post-partita. Esatto. Ti ascolteremo con piacere, grazie a Francesco Reppice. Grazie a voi, buona giornata e grazie. Noi continuiamo a parlare di Serie B, tra poco continueremo a sentire il direttore Mazzei, ma siccome abbiamo anticipato insomma quello che sarà il campionato, la prossima giornata, la quindicesima nel campionato cadetto e quindi abbiamo accennato alla gara che il Catanzaro giocherà domani pomeriggio in casa della Sampdoria, andiamo proprio a sentire le impressioni di mister Caserta alla vigilia della trasferta di Genova. Ci sarà da affrontare una squadra difficile in un campo come voi ben conoscete, in un campo dove è difficile giocare, però noi sappiamo la nostra forza, noi vogliamo cercare di pensare a noi stessi, saremo accompagnati ancora una volta con tantissimi tifosi, questa è l'ennesima dimostrazione che questa città vive per il Catanzaro, vive per il calcio e noi dobbiamo fare di tutto, dobbiamo fare anche di più di quello che stiamo facendo sicuramente per dare una soddisfazione anche ai nostri grandi tifosi. Noi non dobbiamo pensare a questo sinceramente, a noi cambia ben poco la posizione classifica che ha la Sampdoria per gli obiettivi che è partita, questi sono problemi loro, non dobbiamo pensare agli obiettivi, alla situazione che sta vivendo la Sampdoria, noi dobbiamo pensare, essere consapevoli soprattutto che noi stiamo facendo un percorso, dobbiamo cercare di ritornare alla vittoria e lo faremo e cercheremo anche di farlo domani, non solo in casa, non solo in altre partite, anche in uno stadio bello, in un club che è partito con altri obiettivi. Quindi noi, a prescindere da quello che succede in casa degli altri, non possiamo, non vogliamo pensare a quello, dobbiamo pensare a noi, a quello che dobbiamo fare, sapendo le difficoltà del campo, della squadra, dell'ambiente, ma come ho detto prima, noi non andiamo soli a Genova, andiamo con i nostri tifosi e sicuramente ci daranno una grossa mano. Ma le assenze, parliamo di assenze pesanti della Sampdoria, non anche noi abbiamo delle assenze molto pesanti, abbiamo dei giocatori fuori per infortuni e quindi le assenze a un certo punto sia per noi che per loro contano relativamente, conta quello che faremo soprattutto durante l'arco dei 90 minuti, ha dei giocatori, come ha detto tu, forti la Sampdoria, ma ha cambiato anche qualcosina dal punto di vista tattico, non so se domani cambierà ancora o continuerà come abbiamo visto a Palermo, ma noi abbiamo preparato sia l'una che l'altra soluzione, quindi conta essere squadra, conta essere belli compatti nei momenti belli, nei momenti difficili, perché ci saranno sicuramente inevitabile, durante l'arco di una partita non avere dei momenti difficoltà. La squadra deve crescere, come anche ho detto ai ragazzi, in alcuni frangenti della gara, dobbiamo essere più cinici sotto porta, dobbiamo essere più compatti in alcune zone di campo e leggere bene la partita. Tutino è un giocatore, per me è uno degli attaccanti più forti della Serie B, perché ha delle qualità tecniche, fisiche, sa giocare con la squadra, sa attaccare bene la profondità, ma non è solo tutino la Sampdoria, la Sampdoria ha dei giocatori validi e sappiamo tutti che nei momenti magari di difficoltà i giocatori, soprattutto anche quelli più esperti, quelli più carismatici, cercano di dare qualcosina in più, come farà del resto tutta la squadra, perché giocherà in casa e farà di tutto per ottenere la vittoria, ma anche noi faremo altrettanto. Rientriamo in studio allora dopo aver sentito Fabio Caserta alla vigilia della trasferta di Genova per il suo Catanzaro. Direttore, non riesce ad entrare nel cuore dei catanzaresi? Caserta paga anche lo scotto di aver allenato lo scorso anno il Cosenza e di essere stato esonerato da Cosenza? Questo purtroppo per i catanzaresi e per la io credo già da a priori quest'estate, però devono essere bravi a compattarsi intorno alla squadra, intorno all'ambiente, intorno all'allenatore che nel suo percorso ha dimostrato di essere un allenatore valido, importante, un allenatore che ha idee, principi di gioco e spesso e volentieri riuscito ad arrivare agli obiettivi che le società gli avevano chiesto di raggiungere, quindi deve avere la fiducia e deve sentire da parte dell'ambiente secondo me più stima, perché sentirsi stimato in questo mondo del calcio aiuta a lavorare meglio. Probabilmente è anche un po' il trucco del suo Sambiase, perché è chiaro, stiamo un po' saltando la Serie C ma poi ci torniamo, tanto salteremo da una parte all'altra, perché ripensando a quello che ha fatto il Catanzaro lo scorso anno nelle ultime due stagioni, il paragone viene facile con quello che ha fatto il Sambiase nella scorsa stagione in eccellenza, quel campionato stravinto dalla prima all'ultima giornata, campionato praticamente mai in discussione e quest'anno probabilmente la reale vittoria della società è stata dare continuità a quel percorso intrapreso lo scorso anno. Sì, noi abbiamo lo scorso anno deciso, messo a tavolino un programma, siamo riusciti a inserire in rossa calciatori che erano provenienti in buona parte della Serie D, hanno sposato il progetto, ci siamo seduti e abbiamo parlato senza mezzi termini a tutti obiettivi di vittoria, ciò lo siamo detti tra di noi, l'abbiamo detto anche apertamente, abbiamo avuto un percorso importante, un percorso che ci ha portato e ci ha lasciato tante soddisfazioni e da quella che è stata la rosa e lo staff, il gruppo diciamo che ha portato a questo risultato siamo ripartiti, alcune scelte forse quest'estate sembravano un pochino impopolari, anche con calciatori che avevano giocato di meno in eccellenza, confermati e che adesso comunque stanno facendo bene in D, altri che sono stati inseriti in rosa che provenivano dall'eccellenza, giovani, abbiamo avuto la fortuna di inserire giovani forti e aggiungere quelli di nostri under che erano già elementi validi, stiamo dando la possibilità di essere valorizzati dai ragazzi locali e questo era uno degli obiettivi che la proprietà ci aveva chiesto. Sicuramente non bisogna abbassare la guardia, però finora il nostro percorso ci soddisfa, le scelte credo che devono essere coraggiose per una società come il Sambiase che si deve un po' inventare qualcosa per stare a un determinato livello, competere con squadre di un altro blasone, di altre tradizioni. Sì, è chiaro che lì davanti dove si trova in classifica il Sambiase era difficile ipotizzare insomma che in questo momento della stagione dopo 13 giornate il Sambiase potesse essere alle spalle di quattro corazzate come sono Siracusa, Scafatese, Vibonese e Regine insomma è una, io ho definita la sorpresa del campionato ma ha ragione perché probabilmente forse anche la Vibonese è un po' oltre le aspettative ma sicuramente chi sta facendo qualcosa di straordinario è proprio il Sambiase. Definire sorpresa ad oggi ancora sono passate diciamo non abbastanza giornate perché comunque il campionato è lungo. Però la continuità dei risultati dice questo. La continuità, l'ultimo mese è stato un mese importante in cui hai vinto, hai subito poco nonostante la situazione d'emergenza, domenica eravamo in piena emergenza, lo saremo di nuovo domenica, però comunque la squadra ha trovato una quadra, ha trovato una sua alchimia, un gruppo che ha trovato una chimica, il lavoro è un lavoro importante, è una squadra che si aiuta, che lotta, che combatte, è una squadra difficile da incontrare, rognosa, spesso e volentieri i colleghi direttori si riferiscono nelle varie interviste, gli allenatori è una squadra scorbutica da incontrare e questo se noi perdiamo abbastiamo poco poco la sticella su questo aspetto ne abbiamo parlato con i ragazzi proprio in settimana parlando della partita di domenica con la girale che reputa la classica partita trappola, se abbassiamo la sticella su questo diventiamo di nuovo una squadra normale o al di sotto di quelle che sono le squadre normali, ritorniamo a essere una squadra che deve lottare per i play out come l'obiettivo, diciamo, la salvezza che ci siamo determinati in inizio campionato, essere a 10 punti dei play out è una quota importante, non dico un margine di sicurezza perché sono quattro partite e è ancora presto, però noi adesso da qui a Natale, da qui a per la sosta avremo queste quattro partite che ci diranno veramente chi siamo perché ci misuriamo con realtà che hanno fame, hanno voglia, hanno grinta, hanno determinazione, quindi andremo ad affrontare caratteristiche diverse rispetto a quello che abbiamo affrontato adesso. Sì perché finora non è sicuramente più facile, però forse è più facile prepararle le partite o comunque si riesce a non sbagliare l'approccio in partite con squadre contro le big insomma di questo campionato contro cui insomma il Sambiasi ha fatto veramente carne da macello perché ha battuto Siracusa e Vibonese, ha pareggiato con Scafatese e Reggina, insomma è un po' un'ammazza grande di questo torneo. Sì, in queste quattro partite abbiamo fatto il nostro meglio, però abbiamo avuto un approccio, una determinazione, una cattiveria, una gestione dei momenti importante, a differenza di altre partite dove magari vedi Castronfavara, Locri, abbiamo avuto qualche momento un pochino diverso, abbiamo avuto qualche defiance. Io ad oggi non mi sento di dire che il Sambiasi è in over performance, che stiamo performando oltre quelle che sono le nostre possibilità perché abbiamo costruito noi questa scuola, quindi siamo i primi che crediamo nella nostra scuola e nel nostro staff. È un po' come screditare il proprio lavoro. Però queste quattro partite ci tirano tanto, abbiamo chiesto ai ragazzi, abbiamo responsabilizzato, ci siamo auto-responsabilizzati, auto-caricati determinati, affinché riuscissimo ad uscire questo periodo, questo mese, concretamente con qualcosa in mano e poi chissà pensare a qualcosa di più importante. Torniamo a breve a parlare di Serie D e del percorso straordinario del Sambiasi, ma intanto facciamo un passo indietro e ritorniamo alla Serie C che avevamo saltato, perché parlavamo di percorso straordinario che sta facendo il Sambiasi e altrettanto straordinario quello che sta facendo il Crotone nelle ultime otto giornate. Dopo un avvio davvero terribile, allucinante per la squadra di Emilio Longo, la società ha avuto la forza di non perdere la testa in questo contesto, perché sarebbe stato facile allontanare l'allenatore dopo la sconfitta casalinga con l'Avellino, ad esempio, quello che è stato il punto più basso di questo avvio di stagione, invece proprio da lì è partita la risalita degli squali. Ora in Serie Utili, appunto, da otto partite, in grande ripresa, in grande convinzione anche dei propri mezzi. C'era solo da aspettare che questa squadra trovasse giusti equilibri. Assolutamente mi trovi d'accordo perché è una squadra forte, è una squadra che secondo me dà prima i tre o i quattro posti, per come è costruita, per la soggetta che ha le spalle. Anche per le idee dell'allenatore. Anche per le idee dell'allenatore, perché è un allenatore che definirebbe quasi geniale per quelli che sono i suoi principi. Sicuramente nelle ultime sette o otto partite, con questi risultati importanti, è cambiata completamente il modo di vivere, anche la settimana, cambia tutto. Io ricordo che dopo la partita con l'Avellino era un ambiente depresso, seguo tanto, il Crotone è una delle società che fin da piccolo ho seguito sempre di più. Ricordo che si era arrivati davvero a un punto di non ritorno. Adesso è lì a 25 punti, a pochi punti di distanza dal secondo posto. Credo che il Benevento sia difficile per tutti da riuscire a raggiungere perché farà un campionato, non dico a parte, ma farà un campionato di vertice fino alla fine, credo. Però con Gerignola, Avellino stesso... Il direttore ci dà l'assist per mostrarla la classifica della Serie C, ci rendiamo conto di quanto sia risalito il Crotone, ora a 25 punti, appunto, a 4 dal Cerignola che è secondo, a 3 dal Monopoli che è terzo. È lì, adesso è tutto lì. Se la può giocare perché la rossa assolutamente non è inferiore a quella del Cerignola e del Monopoli. Credo che l'Avellino abbia qualcosa in più, ma anche se andiamo a guardare il budget ci rendiamo conto facilmente. Però... Avellino, Trapani, Catania... Che sono tutte libero adesso. Sì, il Trapani si è rimesso di nuovo sotto. Sono tutte lì. Il Trapani credo che abbia un fattore, il fattore lescano che vuole fare la differenza in assoluto. Il Catania vive anche di momenti perché, per esempio, mercoledì in Coppa ha un risultato un pochino esagerato. Spero che non per loro abbia delle ripercussioni. Però Crotone, se continua questo filotto di risultati, penso che si rimetterà lì tra il secondo e il terzo posto a breve. Poi un campionato, lo sappiamo, in particolare quello di Serie C, dove le posizioni che non siano la prima contano poco. Fare i play-off è sicuramente una lotteria incredibile. Non hanno il valore che hanno i play-off della Serie B, né le insidie che presentano quelli della Serie B. Insomma, il campionato di C è lunghissimo. I play-off di C sono davvero una lotteria. Vediamo quello che è il prossimo turno in Serie C, in particolare la sfida che il Crotone affronterà domani pomeriggio in casa della Foggia alle 15. Assieme al Crotone alle 15 anche Benevento Cerignola, quindi sfida fra prima e seconda della classe. Poi Latina Picerno, anche questa è una sfida interessante, con Altamura-Trapani e Catania-Cavesi alle 17.30. domenica alle 15 Casertana-Potenza, quindi alle 17.30. Juve, Nexgen, Taranto e Turris-Messina chiuderanno lunedì alle 20.30 Monopoli-Avellino e Sorrento-Giuliano. Dispiace un po' direttore, proprio prima di ascoltare le parole di Mister Longo di questa mattina alla vigilia della trasferta di Foggia, dispiace un po' vedere sempre questi asterischi, questi meno in classifica. Il campionato di Serie C quest'anno rischia davvero di essere falsato da questa penalizzazione. Io credo che sarà stravolto più che falsato. Il Taranto o la Turris stessa, dalle logiche che mi arrivano, si aspettano un qualcosa di quasi disastroso. Forse anche in radiazione del campionato. Potrebbe essere qualcosa di assolutamente... Quindi la lotta per la salvezza sarà condizionata assolutamente da questo. Taranto, Messina, comunque un'altra società che è un po' sempre lì per lì. Ma come è possibile che squadre di Serie C, squadre professionistiche, si trovino in queste situazioni? Cioè si dovrebbe intervenire prima, controllare prima che tutto sia norma, che tutto sia regola? Insomma ci troviamo spesso a parlare di questi problemi e di come la giustizia sportiva in questo senso sia lenta e fuori tempo in un certo senso. Nonostante la giustizia sportiva si presuma sia rapida, no? Perché deve risolvere e decidere in tempi rapidi. Perché con gli addetti lavori ci poniamo spesso. La Covizoc è un ente che controlla e fa le pulci alla documentazione. Abbiamo visto un po' tutti all'opera. Forse alcune volte c'è delle pressioni politiche sull'iscrizione delle squadre. Forse si chiudono troppi occhi all'inizio. Magari qualche fiducia, un po' di fiducia viene detta a determinate proprietà, sperando che le società con blasone, con tradizione alle spalle non andassero poi a finire. Ma sta succedendo ogni anno che c'è una o due società rischiano sempre, in corso d'opera, di falsare il campionato. E parliamo di professionisti. Quindi è questa la cosa, a mio giudizio, davvero molto grave. Avevo anticipato le impressioni di Mr. Long alla vigilia della trasferta di Foggia. Andiamo a sentire. Allora, che cosa ha detto questa mattina il tecnico incontrando la stampa? Noi incontreremo una squadra che in questo momento è una delle squadre più informe del campionato. Sta facendo benissimo, una squadra che ha ritrovato anche flussi di gioco, è sistemata bene in campo, 4-3-3 con i tre avanti che hanno grossa capacità offensiva. Fra Jacopo, Murano, Orlando e Millico sicuramente troveremo un tridente importante per la categoria. E quindi come affrontare questa partita e con chi affrontarla? Dobbiamo affrontarla al meglio delle nostre possibilità, provando a far emergere i difetti che la squadra avversaria ne ha assolutamente e cercando di proteggere i nostri. Quindi io credo che darò continuità a quello che abbiamo visto in campo. Ci potrà essere qualche alternanza nella logica di chi è più in forma. Però questa continuità che darò deve essere percepita anche da coloro che andanno in campo con un senso di responsabilità molto elevato. Perché la continuità delle mie scelte deve essere poi proporzionale alla continuità prestativa dei ragazzi. C'è stato qualcuno sicuramente che non mi ha soddisfatto la partita scorsa, l'ho detto pubblicamente e l'ho detto anche durante la settimana. Io sono sempre una persona prima che un allenatore che dà seconde possibilità a tutti. Mi aspetto che qualora dovessi mettere in campo, anche chi non mi ha soddisfatto domenica, sabato invece lo faccio in modo determinante, facendomi capire che è stato un incidente di percorso e che il fatto di voler dare il meglio deve essere una costante all'interno di questa squadra. Anche perché dobbiamo fare un plauso a coloro che non stanno giocando costantemente e non stanno scendendo in campo dal primo minuto che ci fanno lavorare benissimo. Perché ricordatevi che le buone prestazioni dell'undici titolare è frutto comunque di una squadra che nella sua interezza durante la settimana lavora bene, si impegna bene e che la competizione interna è sempre elevatissima. Quindi anche se non vediamo tanti calciatori in campo dal primo minuto, a loro dobbiamo probabilmente parte integrante di quanto stiamo facendo perché ci fanno allenare in modo superlativo perché hanno voglia di entrare ovviamente in mezzo a campo. Questo ovviamente ha una doppia faccia della medaglia, vale a dire che chi gioca deve testimoniare sempre in modo massimale quanto voglia di rimanere nell'undici titolare. Credo che noi dovremmo continuare a crescere nell'identità di gioco. Probabilmente questa squadra non vincerà partite semplici ma ne vincere a tanti qualora continuasse a spincere sull'acceleratore in fase di possesso palla, in fase di finalizzazione. Quindi ritengo che la partita ovviamente ha bisogno di questo tipo di partita, di equilibri particolari che abbiamo evidenziato nell'ultimo periodo e sappiamo che abbiamo degli spazi che ci concederà il Foggia ma dobbiamo anche essere bravi a chiudere alcuni spazi soprattutto nelle ripartenze della squadra avversaria che qualora noi lasciassimo tanto spazio è probabile che gli spazi in avanti saranno attaccati in modo deciso e anche con grande velocità. Quindi io ritengo soltanto che dobbiamo continuare a fare un percorso di equilibrio tattico che la squadra sta provando a fare. Il discorso che ci siano partite dove si vince con tranquillità non credo che ce ne siano tanti nell'intero girone C, non vedo partite anche le squadre che sono in questo momento indietro in classifica quando perdono perdono con il minimo scarto, sono poche le squadre che riescono a vincere legittimando dall'inizio alla fine la propria forza. Noi dobbiamo essere bravi all'interno della partita di vivere con tranquillità anche i momenti in cui le altre squadre sono dominanti rispetto a noi. Quando accetteremo questo probabilmente saremo anche più validi a portare a casa partite un po' più più facili. E quindi è il momento di rituffarci in Serie D, continuare a parlare della straordinaria stagione che sta facendo il San Biase ma di dare un'occhiata anche a quello che sarà il cammino delle altre anche nella prossima fine settimana. Direttore, tornando a parlare di quello che sta facendo la sua di squadra, davvero cose straordinarie. Dicevamo il segreto potrebbe essere la continuità, la fame di cui ci parlava prima, questa voglia di dimostrare forse anche di poterci stare e di poterci stare alla grande. Sì, ha fatto la differenza, ha fatto la differenza nei singoli in primis. Parlo della squadra, parlo dei grandi, dei piccoli, degli under, degli over, parlo dello staff tecnico a partire dal mister a finire all'ultimo dei magazzinieri. E parlo di tutti quelli che gravitano intorno al gruppo Scuola San Biase quotidianamente. La stessa fame nel fare le cose, nell'approcciarci al lavoro, è quello che ci siamo autotrasmessi dall'inizio. Dobbiamo mantenere questo livello, dobbiamo mantenere questa attenzione, questa determinazione, altrimenti poi un pochino i risultati sicuramente saranno diversi da quelli che stanno arrivando. Fermo l'istante che ancora ad oggi non abbiamo fatto niente, siamo in lotta per una posizione di classifica che non ci aspettavamo, ma dobbiamo essere bravi a continuare a stare di sopra perché poi l'appetito viene mangiando e vogliamo comunque dimostrare, ognuno per la propria motivazione, ognuno per la propria ragione, di essercela meritata, che non è frutto del caso, è la fortuna, questa posizione e questo percorso. Diceva l'appetito viene mangiando, stagione è partita con l'obiettivo di mantenere la categoria, è chiaro che a questo punto, non dico che si guardi a chissà che cosa, però se lei mi dice l'appetito viene mangiando con un mercato lì lì dall'aprirsi nuovamente, le chiedo se la società interverrà, come interverrà, con quale obiettivo e che ambizione, che aspettativa si è posta, insomma, quale traguardo si è posta a questo punto. L'obiettivo dichiarato e non credo che cambierà è la salvezza. E mettere sei squadre sotto di noi anche al novantesimo dell'ultima giornata, questo è stato quello che ci siamo sempre detti. Di mercato non abbiamo ancora parlato con la società, perché se andiamo a guardare i dati di fatto, ad oggi il Zambiase numericamente come Rosa potrebbe anche continuare come ci troviamo. Sono usciti i Munez che ha chiesto la gestione avendo ricevuto una proposta molto allettante della Sarnese ed è stato accontentato. Antonio Crucizzi che desiderava trovare più minutaggio è stata una cosa consensuale, ci siamo lasciati benissimo, il capitano che tanto ci ha dato e lo torno a ringraziare pubblicamente per quello che è stato il suo percorso col Zambiase. Ad oggi abbiamo inserito qualche altro Under-19 all'interno della Rosa, siamo riusciti a fare servizio dei ragazzi locali e come staff tecnico dirigenziale insieme a Gennaro, Porpo, a Nicola Samele, a Salvatore Calidonna abbiamo dato quello che è il nostro pensiero della società e della proprietà. La Rosa può rimanere anche questa per rimanere in linea con quelli che sono i nostri obiettivi. Daremo ancora più spazio a quelli che sono i nostri giovani, però la proprietà so che a breve avrà una riunione in cui... Però è una proprietà ambiziosa, è una proprietà che vuole crescere, che vuole gettare le basi per qualcosa di importante. Quindi è chiaro che spesso si dice che conviene non lasciarsi sfuggire quei treni, quelle occasioni come possono essere una stagione come questa, lo si diceva lo scorso anno per il Catanzaro. È vero, il Catanzaro era partito per salvarsi, ma una volta che sei lì te la giochi, ci provi. Sì, sì, perché per chi ha ambizione, in particolare personalmente l'ambizione non manca, che è tantissima, è così. Però dobbiamo guardare anche la realtà, competere con le quattro, in particolare con le tre squadre che hanno un budget completamente diverso dal nostro, è un qualcosa di irrealizzabile, credo. Però noi se attendiamo quella che è la strategia, la linea, la società ci dovrà dare una linea e poi noi attueremo con le varie eventuali situazioni di mercato. Però abbiamo un nostro pensiero, un nostro parere che forse dal nostro punto di vista è meglio continuare a dare continuità a questa squadra, a questa rosa, e mettere nelle condizioni... Sì, anche perché spesso nel tentativo di rafforzare si rischia di rompere l'equilibrio. Ci sono dei calciatori che stanno facendo un processo, stanno avendo un'evoluzione ed è tutto un work in progress. Quindi devi essere bravo a continuare a mettere le condizioni, poter crescere e continuare questo percorso. Però vedremo, sono ragionamenti che vedremo nel momento opportuno. L'importante è affrontare al meglio queste quattro partite. Assolutamente sì. Parlavamo delle grandi, prima abbiamo accennato insomma a Sambiasi e a Mazzagrandi. Le chiedo quale l'ha impressionata di più? Tecnicamente nella qualità dei singoli il Siracusa. Che forse però avete affrontato in un momento... Sì, in un momento sono arrivati forse un pochino alla prima partita un pochino così. Non si aspettava quella prestazione cagliata. Esatto, secondo me sono rimasti un po' stupiti. Sì, anche in campo stesso, ce ne siamo accorti dagli atteggiamenti, un pochino li abbiamo sorpresi. Però hanno una profondità delle rose allucinante e stanno intervenendo ancora sul mercato. Stanno ancora alla ricerca di calciatori importanti. Radio Mercato, diciamo, arrivano i nomi e sono tutti calciatori importanti. Quindi sarà sempre una scuola che fino alla fine ci proverà e continuerà, secondo me, a giocare fino alla fine per la vittoria del campionato. L'altra candidata che però ha caratteristiche diverse, quello che è il Siracusa, secondo me è la Scafatese. Perché la Scafatese, sì, ha perso scontro diretto in casa con un gran gol dal quadro, domenica, però è una scuola più di categoria, è una scuola più furba per quelle che le caratteristiche del girone, per gente di questa categoria, ragazzi campani in particolare, che sono proprio all'illena per vincere questi campionati e ce ne siamo resi conto quando siamo andati a Scafati, perché era una scuola che in casa giocava contro il Sambese, che veniva da un periodo no, all'ottantesimo si sono messi dietro lì e si sono accontentati del pareggio. Perché hanno capito che era una pareggia che potevano perdere. Questa maturità mi lascia pensare che sono una scuola furba, una scuola giusta per questo tipo di campionato. Qualche chance in meno per le due calabresi, quindi. Cosa manca a questa regina, al di là poi della confusione di quello che è successo con il cambio alla vita tecnica? La regina rischia di pagare questi troppi punti persi in casa, in primis, e poi il fatto di non aver ancora trovato una quadra, un 11, a prescindere dal cambio dell'allenatore, dopo tre mesi un po' mi lascia presagire che ci sono delle situazioni che dovrò ancora capire bene. La Vibonese invece, secondo me, è una scuola che se ha la forza di investire, come penso abbia il presidente Caffo, qualcos'altro sul mercato, la scuola che dà tutte quelle di sopra gioca meglio, esprime il miglior calcio, però poi è una scuola che magari può succedere che vada a Gireale e si fa rimontare, perché poi non hai la profondità della rosa della Siracusa, della Schiafate, se hai la lunga puoi pagarla. Ebbene sì. Abbiamo parlato di Vibonese, andiamo a sentire brevemente le impressioni a cavallo, insomma, tra quello che è stato il periodo negativo, perché parla delle due sconfitte consecutive contro Regine e Acireale, anche del ritorno alla vittoria, insomma, a cavallo, tra tutta questa situazione, ma comunque in un periodo positivo per la squadra rosso-blu, il difensore, tra l'altro è stato nostro ospite qualche settimana fa, Tommaso Squilla, ce lo ascoltiamo. A parte che domenica sono uscito a cinque minuti dalla fine, quindi volevo resistere fino alla fine, ma anch'io sono umano, quindi ho avuto un piccolo problemino, ma niente di che, quindi sono uscito. Sono sicuramente contento della mia prestazione, ma soprattutto della prestazione della squadra. Ci voleva questa vittoria dopo le due sconfitte precedenti, soprattutto dopo quella di mercoledì a Acireale, che diciamo che l'abbiamo buttata via noi con la partita, quindi era importante dare una risposta subito e ci siamo riusciti, quindi siamo contenti di essere ripartiti subito con questa vittoria. Dalle sconfitte poi bisogna saper reagire, bisogna saper superare tutte le difficoltà che durante un percorso ci possono stare, possono succedere. Siamo stati bravi a reagire subito a questo periodo di difficoltà. Sarà un'altra partita difficile e noi la dobbiamo affrontare come abbiamo affrontato le altre partite, con la stessa voglia, lo stesso atteggiamento. Alla fine del giorno d'andato sono rimaste quattro partite e dobbiamo cercare di trarre il massimo da ognuna di esse per cercare appunto di rimanere sempre dove siamo adesso. Quindi noi ragioniamo partita dopo partita e adesso abbiamo l'Enna, la stiamo preparando bene, la affronteremo nella maniera giusta e speriamo di ottenere anche un buon risultato. E' proprio la Cireale che ha battuto, come avevamo accennato, nel recupero la Vibonese, subito dopo la partita con la Regina, sarà prossimo avversario del Sambiase, domenica alla Mezzia. Che partita sarà? Che avversario si aspetta? Mi aspetto un avversario che arriverà per cercare di portare a casa il risultato, punterà il bottino pieno. perché loro sono una squadra, se dal mio punto di vista, una rosa costruita tecnicamente per stare nelle prime 5-6 posizioni, superiore alla nostra. Se vai a vedere gli uomini, le parti, è una squadra che tecnicamente è più forte di quella che a bocce ferme è l'idea della costruzione sulla nostra squadra. Però ha vissuto momenti negativi, in particolare fuori casa, non ha avuto finora la possibilità di fare risultati importanti. In settimana si sono rinforzati ancora, hanno preso un oculto da Brindisi, hanno cambiato qualcosa pure dal punto di vista tattico. Quindi sarà una partita difficilissima. Noi da domenica sera in pullman è il rientro di Enna che stiamo martellando perché sono quelle che noi definiamo partite trappola. Non deve succedere che vinci ad Enna e poi magari hai un incidente di percorso in casa e vanifichi quello che di buono hai fatto. È una partita che temiamo tanto, sicuramente troveremo un dipolito in condizioni non buone e questo non ci permetterà. È piovuto, sì, in settimana. Quindi sarà un altro fattore. Non arriviamo in condizioni esaltanti noi anche per degli acciacchi che stiamo avendo negli ultimi giorni, però stiamo preparando comunque al massimo, cercheremo di fare la nostra partita perché siamo consapevoli di essere una buona squadra e una buona squadra che sa anche approfittare degli errori degli avversari e stiamo costruendo un po' quella che è la nostra fortuna su questo quindi cerchiamo di continuare. Sì, squadra molto solida in difesa, molto cinica lì davanti. Non posso non chiederle a questo punto un commento sul campionato di Zerbo perché si sta dimostrando un cecchino infallibile. Sì, Gabriele quest'estate è stato uno dei primi obiettivi perché comunque è un calciatore poliedrico a livello offensivo può fare più ruoli di tre quarti, esterno offensivo, seconda punta, l'occorrenza è anche prima punta. Un ragazzo che si è calato subito nella nostra realtà, un ragazzo che si è messo a disposizione. Quest'anno ha delle qualità tecniche e balistiche importantissime. quando calcia dai 25 metri, ai 25 metri mira di sinistro, trova sempre l'angolino e per riportare in questa categoria è difficile. Sta facendo davvero bene, speriamo di continuare a mettere le condizioni e fare bene, ma insieme a lui io credo che tutti i ragazzi che sono stati impegnati nel reparto offensivo, in particolare Umbaga, Ferraro, Cataldi, lo stesso Costanzo, Munoz e Cruciti fino a pochi tempo fa, abbiano fatto faville e speriamo per loro che continuino. Hanno trovato davvero dei meccanismi, hanno trovato un modo per aiutarsi, perché comunque non solo dal punto di vista realizzativo, ma i tre o quattro, a seconda del modo del misto che giocano davanti, si mettono a disposizione anche nella fase di non costruzione, vuol dire tanto. È chiaro. Abbiamo parlato di Vibonese e di Regina, squadre con le quali ha ben figurato il Sambiase, non le ho chiesto dell'Ocri, che invece è l'unica delle calabresi ad aver vito contro il Sambiase proprio qui alla Mezzi. Sì, l'Ocri contro di noi, contro di noi, era la prima di Cozza, quindi era anche la prima partita dopo il cambio d'allenatore. Trovarono il gollo sul Pulisione, una bellissima pulisione alla Vecca, secondo me era una partita da 0-0, una partita che si poteva benissimo portare sul pareggio. Noi siamo stati ingenui, non siamo stati cattivi sullo 0-0 ad andare in vantaggio con tre palli importanti che abbiamo avuto e loro poi ne hanno approfittato. La vittoria di domenica a Sant'Agata li rilancia, perché altrimenti un altro risultato negativo a Sant'Agata avrebbe un pochino fatto entrare nel vortice. Sotto questo punto di vista forse ancora devono maturare questa tranquillità, questo equilibrio, questa lucidità che ci vuole per gestire determinati momenti. È una società giovane, che ha entusiasmo, quindi in questo aspetto magari ci si può aspettare qualche piccola defaianza. Però sono sicuro che il Locri arriverà all'obiettivo della salvezza, perché comunque è una buona squadra, ben gestita, ben allenata. Le quattro calabrese quest'anno spero che non... Meno male, che saremo tutti presenti. Dopo la tragica stagione dello scorso anno. La drammatica stagione. Finalmente riusciamo a commentare una stagione positiva per le calabrese. Vediamoli insieme. Prima di chiudere il prossimo turno, si gioca domenica 1 dicembre la quattordicesima giornata, Castrumfavara Scafatese, Pompei Sant'Agata, Locri Ragusa, Nissa Regina, Paternò Licata, San Biasi Agireale, San Cataldese e Giavirtus, Siracusa Acragas e Vibonese Enna. Cosa rischia la regina Caltanissetta? Partite difficilissime. Partite davvero difficili, perché la Nissa forse la prende il miglior momento. È una squadra forte, abbiamo vinto contro di noi in casa, abbiamo vinto, ma se non fossero rimasti in dieci saremmo stati a commentare un'altra partita. Poi hanno perso Bollino in settimana per, se non sbaglio, andare alla Nacerina, ma comunque è una squadra da affrontare difficilissima, soprattutto in casa, un ambiente importante, un pubblico numeroso. Dovranno togliere una prostazione davvero importantissima per riuscire con la vittoria della Caltanissetta. Mi auguro per la regina che ci riesca, ma vedendo quella che è stata la partita di Gireale fatta dalla Nissa, non è l'avversario migliore da trovare in questo momento. E noi ci auguriamo che la regina possa comunque riuscire ad ottenere risultato. Io ringrazio il direttore sportivo della San Biasa, Antonio Mazzei, per essere stato con noi questa sera. In bocca al lupo, direttore, per il proseguo della stagione. Grazie per l'invito, Stefania, crepi il lupo e mi auguro di vederci domenica alla nostra partita. Grazie anche a voi per averci seguita anche questa sera. Ci rivediamo venerdì prossimo sempre alle 20.40 sull'altro Corriere TV per una nuova puntata di Tutti nel pallone. Grazie a tutti. Grazie a tutti.